Le rane Le rane Hai mai leccato una rana? No Ma che cazzo dice sta balena? No, sì No, sì che sto guardando un cortometraggio di una balena che canta Cioè nel senso Che cazzo sta a dire? Cioè assurdo Quei relli in questo cazzo Ma come se permette sta persona? Fareva burino a me Io Io Cioè la scuola corfaina Eh stava scuola corfaina Insegnante a Amarini Le permette di dirmi a me burino Aver cortesia Insomma un charme No come te Sarei sicuramente Una glochère Eh vedete Se la tua amica Si è che vuole rompere un palamica tua Capito? Perché mi fai si fa il cazzo Una glochère Sarei una glochère E' una glochère Ma Acqua Qual è lì Ce cazzo non è vero che nel 2015 ci restava provando ad entrare a uomini e donne non rispondo a questa domanda ridicolo ridicolo e quando insegnava alla persona a giocare a poker questa è un'altra domanda a cui io non voglio rispondere allora adesso le faccio io una domanda però se non rispondere ma questi 5 mila euro ma poi ci vediamo in tribunale ma vada affanculo vada e vada affanculo tu vada affanculo tu e se non me lo dici da solo e senza maschela c'hai 10 anni in meno mi porta rispetto in maniera non esaustiva a tutte le domande che abbiamo fatto Mi perdoni, devo rispondere alla telefonata Due minuti arrivo No, mi scusi, sono io, sono io Bulletto, lei forse rispetto per la mia persona Io le sono andato per lei, via di lei Mi ha diffamato, mi ha diffamato Perfetto, per questa cosa per racquare l'acqua Rimasto mutato e poi uscito Riccardo, fai pena Fai pena